ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco sinovial 50 a cosa serve sinovial 50 ha un parafarmaco appartenente alla categoria degli prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione è commercializzato in italia dall'azienda ipsa farmaceutici italia srl informazioni commerciali titolare ipsa farmaceutici italia srl concessionario ipsa farmaceutici italia srl categoria di appartenenza prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione confezioni sinovial 52,5 ml 2,0 per 150 mg barra 2,5 ml 1 fs più a 21 g fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo parafarmaco esaminato